Allora, ciao a tutte, ho deciso di fare questo video per farvi vedere un po' i colori che mi sono arrivati da Aglia. Mi sento veramente idiota a fare questa cosa e a parlare da sola, però... La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Continuamente, anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono. E molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esse fuori. C'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Fino all'ultimo giorno della nostra vita. Fino all'ultimo giorno della nostra vita.